ciao ragazzi come va spero bene oggi ti porto in palestra a vedere siam cos'ha combinato un allenamento completo ovviamente iniziato da un buon riscaldamento la forza come sempre sai al centro e il workout finale dai un'occhiata o che movimenti si è diventata molto brava su questo ma ci ha impiegato degli anni ha fatto i giusti adattamenti gli esercizi sono in tutta sicurezza se tu vuoi conoscere se due esercizi almeno quelli masilari sono in sicurezza sotto ti lascio tutti i miei link se ti vuoi iscrivervi anche alle altre mie pagine e vuoi seguirmi sempre in diretta io sono sotto dai un'occhiata quindi a questi movimenti se ti va e ti piace il canale ti iscrivi o ammazzi un bel pollice in su noi ci vediamo alla prossima e tu adonati bene ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.